Assessore, la tariffa puntuale cos'è? La tariffa puntuale è un obiettivo dell'amministrazione comunale di Campobasso, ma è l'ultimo obiettivo di una serie di traguardi che dobbiamo raggiungere ovviamente con successo per dotare la città di Campobasso a un sistema completo per quello che riguarda la gestione dei rifiuti. Quindi dalla tipologia di raccolta, raccolta riferenziata che giorno giorno sta invadendo piano piano e cambiando le abitudini dei nostri cittadini, all'arrivare fino a una tariffazione puntuale, ovvero un pagamento del servizio di raccolta differenziata in modo equo in base all'apporto che un utente dà, in sintesi seguendo un principio europeo di chi più inquina più paga. Dunque uno strumento utile per giungere all'obiettivo rifiuti zero, il quadro legislativo e regolamentare, le modalità applicative, le nuove modalità di raccolta e misurazione dei servizi, temi trattati nel corso del convegno di stamattina a Campobasso presso la sala conferenze del circolo sannitico, alla presenza di esperti e tecnici del settore, incontro suddiviso in tre momenti, il quadro legislativo e normativo, il quadro applicativo e le esperienze, con particolare riferimento alle esperienze innovative di tariffazione puntuale, in grado di valutare azioni di riduzione dei rifiuti da parte delle utenze. Il percorso della differenziata a Campobasso a che punto è? La differenziata a Campobasso è partita nel centro storico e si sta consolidando con una serie di azioni correttive perché è normale in un processo di cambiamento di abitudini che il cittadino possa avere delle difficoltà nell'adaltarsi ai nuovi stili di vita. E noi cerchiamo di affiancarlo in modo silente, in una comunicazione one to one, per il momento ancora non la espandiamo in modo pandemico anche sui media, e poi abbiamo iniziato un approccio nelle contrade, cioè tutta l'area periferica della città, che pian piano andranno a costituire questo anche cordone di difesa, anche da una migrazione dei rifiuti dei comuni limitrofi, che si registra ma è fisiologica, e quindi cerchiamo anche di sopperire, cioè di andare subito a tamponare un'emergenza che chi vive in contrada lo sta vedendo, diciamo nelle zone cerniera soffrono un po' questa migrazione dei paesi intorno che sono anche loro partiti con la raccolta differenziata. E pian piano ci andremo a stringere verso i grandi quartieri.